Cosa pensi del metaverso? Giusto che hai tirato fuori l'argomento, perché il titolo di meta non è bellissimo in questo periodo. No, no, guarda, assolutamente, non so quando, perché chiaramente non ho la sfera di cristallo, ma non c'è dubbio che il metaverso, che poi è un termine che racchiude un sacco di cose, prenda piede, non c'è dubbio. Non so se sarà tra 5 anni o 50, quello è il problema, e in questo periodo di tempo meta potrebbe fallire, assolutamente, però non c'è dubbio che funzionerà. E stavamo facendo tra l'altro questo stesso discorso di persona quando ci siamo beccati, la cosa realmente figa è l'usotipo, almeno per me, è più che altro realtà aumentata. E posso vederlo nel momento in cui, per esempio, ho Oculus, e c'è un punto anche è, effettivamente, pochissime persone hanno provato effettivamente Oculus, e si rendono conto di quello che effettivamente può fare. Io l'ho comprato, l'ho fatto provare ai miei parenti, ai mio papà e mia mamma, impressionati, impressionati. Certo. Cioè, mio papà gli ho fatto provare il gioco, quello lì, solito, non so se l'hai mai scaricato, dove tu sali su un grattacielo con l'ascensore, e poi c'è una rampa, c'è una rampa davanti a te, tu devi camminare sulla rampa fisicamente, perché sei dentro l'Oculus, e buttarti giù. E, oh, mio papà, come ha visto aprirsi gli sportelli dell'ascensore, c'è tutto messo attaccato dietro. Assolutamente, certo. C'è tutto messo attaccato dietro, e ha iniziato a urlare, perché non sapevo che lui avesse, cioè come si dice... Paura del vuoto. Paura del vuoto. Ci ha messo l'aria, e gli faccio, papà, toglitelo, ostia, non sapevo sta roba. A 60 anni ho scoperto che mio papà ha stè paura qua. Bellissimo. E poi... Mamma mia. Poi, le persone che riescono a buttare, cioè che poi vanno sul trampo, li si buttano, un paio di amici, io compreso, io mi sono accasciato per terra tremante. Assurdo. Però, vabbè, quello non è... Cioè, poi dici che cacchio serve con la roba lì, effettivamente l'utilità è zero. Perché poi alla fine tutte le innovazioni nascono per o un'esigenza di una nazione, o un'esigenza di guerra, o un'esigenza di un'azienda. Sì, però tieni presente che dieci anni fa, quando sono iniziati ad arrivare questi telefonini qua agli smartphone, la grande novità era l'applicazione che trasformava lo schermo del telefono in un boccale di birra. Cioè, tu facevi così e bevevi la birra, capito? E bevevi la birra. Cioè, guarda adesso cosa facciamo con questi telefonini. Cioè, anche lì, da dove siamo partiti? La grande innovazione era l'applicazione che... Glu, 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 glu. Oppure c'era la frusta che faceva... Sì, sì. Adesso il giroscopio, oltre che i microfoni, sono una delle cose che... Questo affare qui, che è l'iPhone 14 Pro Max ti ostia. Se io ce lo metto in macchina, rileva che ho fatto un incidente e mando un segnale. Esatto. A qualcuno che potrebbe salvarmi la vita. Esatto, no, no, infatti, quindi per dire... Riguardo all'Oculus, il mio primo caso, per il quale potrebbe essere utile a me, è il fatto che posso andare in multitasking. Nel senso che, attraverso l'Oculus, io, in realtà aumentata, vedo il mio monitor e posso mettere quanti ostia di monitor voglio, quanto grandi o piccoli voglio. E attraverso questo non devo portarmi via tutti i monitor, perché io mi trovo bene a lavorare con tre monitor contemporaneamente. Però io sono io, è così. Il grande problema di quello, ora, è un problema tecnologico. La latenza è ancora troppo alta, di connessione con il computer. Quindi io schiaccio un tasto, schiaccio la G e la G mi compare sul monitor, mezzo secondo dopo è troppo. Però vabbè, un dettaglio. No, 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 certo, certo, assolutamente.